sacrificio nella tetra oscurità del lontano futuro c'è solo guerra il gocciolare ritmico dell'acqua sul pavimento scandiva i minuti le ore i giorni della sua prigionia la donna aveva perso il conto del tempo che aveva passato in quella fredda cella la stanza era enorme vuota una sola finestra lasciava entrare la luce delle due lune di quel pianeta sperduto nell'immensità dell'imperium lei si trovava incatenata per i polsi a braccia spalancate inginocchiata sul pavimento di pietra umida l'intero suo peso era sostenuto ormai solo dalle spalle poiché le gambe avevano ceduto alla stanchezza ormai molte ore prima o forse erano giorni ormai aveva perso la cognizione del tempo i suoi capelli un tempo di un argento vivo ora erano pieni di sporcizia tanto da sembrare grisotopo i suoi vestiti le sue armi le erano state portate via era stata lasciata solo con i suoi indumenti intimi e la grossa catena con il simbolo dell'inquisizione ancora il collo un tempo simbolo del suo rango ora simbolo di scherno da parte dei suoi guzzini lasciatele il distintivo aveva detto uno dei carcerieri con quel suo orribile modo di parlare strascicato abbiamo un ospite importante e dobbiamo trattarla bene finché lui non sarà qui dopo le risa gli scherni vennero le percosse la torturarono con bastoni con ferri rovienti con manganelli elettrici perlomeno non provavano mai a prendere il suo onore ma questo non sembrava un gesto di riguardo tanto più di un ordine arrivato dall'alto più di una volta aveva sorpreso uno dei suoi carcerieri guardarla in modo lascivo ho sentito le loro fettide dita violace sfiorare la sua pelle delicatamente questa cosa la faceva impazzire di disgusto lei la più giovane inquisitrice diplomata nell'ultimo secolo lei che a solo 28 anni si era fatta largo tra le fiera del lord oxynos che aveva già il suo primo incarico come inquisitore di ruolo ora si trovava in catene in balia di un gruppo di schifosi abomini mutanti più di una volta stava per essere sopraffatto dalla disperazione le aveva approvate tutte per uscire aveva provato persino a fare affidamento sui suoi poteri psionici usando potenti parole di comando sui suoi carcerieri l'unico l'unico risultato fu un più crudele trattamento oltre ad essere brutti e stupidi sembrano essere immune al condizionamento mentale prese nota mentalmente o forse no la sua volontà ferrea temprata nelle sale dell'adeptus inquisitorum con sede al polo sud della terra era stata messa a dura prova il suo corpo bentornito ed allenato era ora dimagrito e segnato da graffi e ustioni ma il fuoco della fede ardeva ancora dentro sui occhi color smeraldo la luce dell'imperatore non l'aveva abbandonata nei momenti più difficili le sacre litanie di purezza l'aiutavano a mantenere la sanità mentale e la concentrazione non poteva abbandonarsi allo sconforto lei era gli occhi dell'imperatore la sua volontà e il suo strumento di morte morte che si sarebbe abbattuta su quegli immondi esseri a tempo debito ma come si era ritrovata in quella situazione forse aveva usato troppo o forse era stata incauta era stata mandata su quel pianeta minerario ad indagare su alcuni fatti strani accaduti di recente alcuni attacchi terroristici avvenuti negli ultimi anni avevano tutta l'aria di essere stati compiuti da organizzazioni separatiste di stampo cultista non c'erano ancora prove per determinare se si trattasse di un culto del caos o semplici separatisti così il suo ordine decise di mandare una novizia per farsi le ossa lei prese molto sul serio il suo incarico desideroso di portare nuova luce alla sua già brillante carriera una volta atterrata con la sua squadra prese a fare un sacco di domande a passare al setaccio l'intera capitale non ci volle molto prima di capire che la corruzione perpetrata dalla setta era arrivata a livelli preoccupanti della catena di comando quello che non poteva sospettare è che numerosi cultisti si erano infiltrati anche nella detto sarbitas di quel mondo in una di quelle retate compiute contro il culto gli agenti si erano rivoltati all'improvviso contro di lei uccise i suoi uomini uccise i suoi uomini e provato a catturarla lei aveva combattuto certo aveva ucciso un traditori quando un membro della setta delle fattezze deformi l'aveva colpita con violenza e tramortita e poi era iniziato il suo calvario un forte clangore metallico la svegliò di sopra salto si era addormentata per qualche minuto o forse era passata qualche ora non le importava molto il corpo le doleva da impazzire e le sembrava che ormai le spalle dovessero slogarsi da un momento all'altro la porta metallica della cella si stava aprendo facendo entrare la fredda luce della elettrocandella fissata al soffitto due dei suoi carcerieri entrarono nella cella seguiti da un terzo individuo che non aveva mai visto il nuovo arrivato era calvo ed indossava una tenuta da battaglia non regolare priva di insegne il corpetto corazzato grigio copriva una lunga veste di color viola scuro attaccati al cinturone vi erano due caricatori mentre una pistola laser era nella fondina di cuoio fissata alla coscia destra sul lato sinistro invece si trovava una vecchia spada catena che ora riposava nel fodero l'inquisitrice si aspettava di essere torturata ancora invece i due energumeni dalla pelle violacea sciolsero le sue catene e la trascinarono di fronte al terzo membro del gruppo questo la squadrò passò una mano guantata sul medaglione a forma di i che le portava che lei portava sul petto ed emise una smorfia andiamo esclamò l'uomo lui vuole vederti detto questo la costruisero ad indossare delle manette leggere in metallo argente o come quelle usate dall'adeptus la fecero camminare per diversi minuti le gambe stanche faticavano a tenere il passo con i suoi carcerieri che ogni tanto le davano uno spintone per farla procedere non sapeva dire quanta strada avessero percorso in quei corridoi umidi e privi di finestre quando i quattro si fermarono lei poteva vedere che si erano fermati di fronte a una pesante porta di ferro alta tre metri sorvegliata da due guardie dotate di disgustose screscenze osse sulle loro fronti ed armati di fucili a proiettili le due guardie fecero il saluto all'uomo calvo che dispose con un cenno del capo poi disse sono qui con l'ospite richiesto dal patriarca i due sorveglianti si scambiarono un gesto d'assenso ed aprirono il portone verso l'esterno la donna vide che dall'altra parte si stagliava una grande sala dai muri il roccemento grezzo illuminata da fiocche elettro candele fissate alle pareti che diffondevano un tenue bagliore giallognolo il tizio calvo che da come si comportava pareva essere un gerarca di alto rango della setta la presa per il braccio e la trascinò all'interno entrarono solo loro due lei vide che le guardie non per lei vide che le guardie non permisero il suo ex carceriere di avanzare e richiusero la pesante porta il gerarca avanzò con la giovane donna nel grande salone era completamente spoglio su tre lati brillavano le luci artificiali mentre dal lato opposto alla porta era avvolto dall'ombra tanto fitta da non sembrare neppure un'oscurità naturale quando la giovane inquisitrice vide agitarsi delle figure nell'ombra stringesse forte a sé il suo medaglione sussurrando parole in alto gotico il suo accompagnatore le diede una spinta che la fece incespicare cadere a terra proprio davanti al cono d'ombra la donna si inginocchiò mentre i suoi occhi si stavano gradualmente abituando all'oscurità due imponenti figure fecero un passo avanti uscendo dal cono d'ombra erano orribili mutanti dalle fattezze grottescamente simili ad esseri umani ma con entrambi un braccio extra che spuntava dalle loro schiene i due erano identici alti più di due metri e armati con delle grosse spranghi di ferro cosparse di chiodi appuntiti su un'estremità dalle loro espressioni ebeti si poteva dedurre che i due fratelli non brillassero di acume ma lei intuiva che in combattimento quei due colossi sarebbero stati inarrestabili per una persona normale ma la cosa più raccapricciante era quello che si trovava poco più dietro dei due se di uno scanno fatto con numerosi rifiuti metallici e scarti industriali di ferro sadati assieme vi era casciata una spaventosa creatura alta quasi tre metri la bestia era dotata di quattro braccia terminanti con artigli neri mentre il corpo era ricoperto da un carapace spesso la testa allungata all'indietro aveva spesse placche d'osso a proteggere la fronte la bocca era spaventosamente grande e dotata di zanne affilate come coltelli lei rabbrevidì e strinse più convulsamente il distintivo dell'inquisizione patriarca ecco qui la gente degli oppressori come mi hai ordinato te l'ho portata viva finché tu possa dare lei il tuo bacio esordì con enfasi il comandante calvo e portarla così dalla nostra parte terminò la frase fissandola con sguardo malefico tuttavia qualcosa lo turbò la donna che da prima sembrava tremare spaventata ora se ne stava tranquilla in ginocchio sussurrava qualcosa verso il suo distintivo placcato d'oro il gerarca si spazientì e glielo strappò dalle mani pregare non ti servirà nulla ma io non sto pregando l'uomo la guardò sorpreso la voce della ragazza era calma tagliente ad un tratto lei si piegò in due stringendosi il ventre e iniziarono a provenire dal suo corpo degli scricchioli inquietanti come di ossa che si rompono e articolazioni lussarsi i capelli della donna prima argentati iniziavano ora ad assumere una tonalità corvina e a apparire e ad apparire più lunghi i presenti non riuscirono a realizzare cosa stava succedendo quando un boato si sentì in lontananza seguito da un altro da un forte tremore che fece staccare granelli di polvere dal soffitto tutti i cultisti si guardarono intorno confusi per qualche secondo una seconda esplosione ben più vicina della precedente fece tremare il pavimento la bestia tiranide emese un feroce sibidio di rabbia il capitano dei cultisti solo in quel momento guardò confuso il distintivo dell'inquisitrice fece forza con entrambe le mani e lo spezzò in due rivelando non essere semplice metallo dorato ma cavo e al suo interno erano visibili dei circuiti elettronici collegati da piccoli fili a rame una micro spia perché nessuno ha controllato esclamò furibondo si voltò verso la donna ma non si trovava più nella stessa posizione di prima anzi non si trattava più della stessa donna di prima ora era in piedi e fissava il patriarca il suo corpo era snello alta più di un metro e ottanta aveva le spalle più larghe della debole inquisitrice che pensavano di aver catturato il viso arrotondato dimostrava la sua giovane età contornato da lunghi capelli neri che arrivavano a metà schiena mentre i suoi penetranti occhi di ghiaccio non si staccavano dall'oxynos lui era il suo reale obiettivo la sua missione ora che la polimorfina aveva esaurito il suo effetto poteva smettere di interpretare la venerabile inquisitrice e ritornare se stessa maya l'assassina oltre ai rituali compiuti prima della missione per acquisire le sembianze altrui un assassino del suo tempio doveva anche sottoporsi a diverse sedute di ipnosi induttiva atte ad innestare in lei alcuni ricordi e la personalità del soggetto da interpretare così facendo rendeva quasi impossibile distinguerla dall'originale una volta che si fosse invertito il processo però i propri ricordi e le proprie direttive venivano ristabilite oltre ovviamente a tutte le doti combattive che non erano state per nulla intaccate da quelle ridicole torture cui era stata sottoposta i suoi occhi grigio ghiaccio guizzarono da una parte all'altra in cerca di uno spiraglio era sola mezza nuda e disarmata l'unica arma che aveva era il micro sparadardi inserito nel distintivo ora inutilizzabile ma in fondo lei sapeva di cosa era capace e del fatto di non aver bisogno di un'arma per uccidere un uomo più difficile sarebbe stato occuparsi degli ibridi la loro forza non era da sottovalutare e non sapeva ancora se le sue tecniche sarebbero state efficaci nonostante la loro anatomia fosse abbastanza simile a quella di un essere umano tutta altra storia invece sarebbe stato uccidere james dealer aveva bisogno di armi ehi tu esclamò al gerarche estraendo la pistola e buttandogliela la testa chi sei e cosa sta su non riuscì a finire la frase che con uno scatto fulminio la ragazza gli torse il polso con la mano sinistra mentre con la destra assestava due rapidi colpi con le dita al collo dell'uomo lui non si rese nemmeno conto di quello che stava accadendo prima che potesse portare le mani alla gola ebbe un mancamento e svenne l'assassino lo aveva colpito dritto alla giugolare interrompendo il flusso di sangue al cervello e senza soccorso sarebbe morto in pochi minuti con l'agilità di un felino la ragazza fu sul corpo dell'uomo raccolse la pistola e tolse la spada catena dal fodero saltando indietro giusto in tempo per schiavare il potente colpo di mazza afferrata che stava per fracassaghi la testa ci hanno impiegato 2,5 secondi sono lenti in un batter d'occhio la giovane aveva calcolato i tempi di reazione delle due guardie del corpo del patriarca e presa ad elaborare mentalmente una strategia i due colossi con tre braccia la caricarono a testa bassa ma lei si limitò a mantenersi fuori dalla portata dei poderosi attacchi di mazza dopo qualche secondo decise che era il momento di agire e si preparò ad attaccare stava per prenderlo ad anticipo uno dei due quando una porzione del muro esplose verso l'interno una parte del soffitto crollò schiacciando il suo avversario e quasi anche lei il gemello ancora in piedi la ignorò e corse ad aiutare il fratello la cui terza mano spuntava dal cumulo di macerie nonostante lei fosse stata astordita dall'esplosione mantenne il sangue freddo strisciò indietro al mutante supersite e lo decapitò con un elegante movimento della spada con i sensi annebbiati dall'esplosione vide appena in tempo la coda dell'occhio la grossa ombra che stava piombando su di lei si truffò di lato venendo sfiorata da quattro artigli neri che gli passarono ad un palmo dal viso fece una capriola l'indietro e si spada catena nell'altra solo in quel momento si rese conto che qualcosa di umido le stava scendendo lungo il fianco era stata colpita di striscio appena sopra appena sopra la allanca destra ma non le importava la missione era l'unica cosa che conta mentre la creatura xino si muoveva in semicerchio come un predatore lei fece un respiro profondo ed espirò lentamente i suoi nervi si calmarono e i battiti del cuore erano tornati irregolari proprio come gli aveva insegnato el molti anni prima durante l'addestramento al tempio maya era stata prelevata dal suo mondo natio quando aveva solo sei anni ed electra era stata la sua unica e migliore amica per i lunghi anni di addestramento l'unica cosa che non le faceva abbandonare alla disperazione poco più grande di lei era stata anch'essa prelevata dal suo formicaio per essere addestrata dall'ufficio assassinorum poi con l'arrivo della pubertà la loro amicizia era diventata qualcosa di più e insieme avevano scoperto l'amore e la loro sessualità strano che quei pensieri gli fossero tornati alla mente proprio in quel momento forse dovuto agli effetti postumi della polimorfina la creatura si preparò a colpire di nuovo questo fece ritornare maya alla situazione presente i due si stavano i due stavano avvicinandosi alla parte opposta della breccia nel muro da cui era da cui entrava la forte luce del sole allo zenith il jeans dealer balzò in avanti di quattro metri in un istante ma lei era pronta scartò di lato il colpo con gli artigli destri del mostro che se l'avessero colpita probabilmente l'avrebbero tranciate in due invece si conficcarono in profondità nel muro dando quella frazione di secondo di vantaggio a maya per calare la spada sulla creatura purtroppo aveva sottovalutato i riflessi del mostro che schivò il colpo mortale e andò a colpire il suo braccio superiore sinistro staccandolo di netto dal resto del corpo a quel punto perso lo slancio la ragazza tentò di colpirlo di nuovo ma con il braccio inferiore rimasto l'idea un malrovescio che la fece volare a diversi metri di distanza la forma tirante a quel punto urlò di dolore mentre il sangue gli colava copiuso dalla ferita mentre la ragazza si alzava intontita capì dal dolore lancinante all'addome che aveva alcune costole rotte tuttavia il mostro non l'attaccò per finirla aveva la testa attesa all'insù a rifiutare l'aria e solo allora anche maya avvertì rumori della battaglia che infuriava l'esterno del complesso raffiche laser e colpi di granate che giavano sempre più forti vicini a quel punto il jeans dealer emise un sibilo frustrato e si allontanò barcando una porta di servizio prima nascosta dall'ombra alla parte opposta dell'ingresso non pensarci nemmeno disse l'assassina rialzandosi a fatica in quelle condizioni però non aveva speranza di riuscire ad inseguirlo allora strinse la mascella così forte da rompere la capsula nel suo dente finto la capsula conteneva delle potenti droghe stimolanti che fecero passare istantaneamente il dolore e le donarono nuove vigore partì all'inseguimento del mostro attraversò diversi corridoi seguendo la scia di sangue alieno fino ad arrivare in un ampio magazzino semi vuoto furbo in quello spazio lei non aveva copertura ed era in balia della creatura ma dov'era il posto era bene illuminato eppure del mostro non c'era traccia intanto i rumori dei fucili laser della guardia imperiale si facevano più insistente l'esterno dei granelli di intonaco scesero dal soffitto il soffitto fece appena il tempo ad alzare l'arma che vide l'enorme bocca della creatura piombare su di lei ma ancora una volta riuscì a schivare all'ultimo l'assassina provò a correre verso destra ma di colpo la sua gamba destra cedette guardò in giù e vide un profondo taglio che le aveva receso parte del quadricipite non sentiva dolore grazie al tonico da guerra ma stava perdendo troppo sangue e era ora di chiudere la questione in fretta sparò con la pistola laser e il tirannide noi si diede la briga di schivare poiché sapeva bene che quei ridicoli laser non potevano intaccare il suo carapace tuttavia maia continuò a sparare e i colpi andarono a segno non mirava ai punti vitali ma le giunture tutte le volte che la bestia caricava lei riusciva a colpirlo da angolazioni diverse non causava ferite mortali ma i movimenti del mostro si facevano via via più lenti e goffi fino a quando anche lui cadde in ginocchio con l'ultimo colpo in canna lei riuscì ad accecarlo da uno dei suoi orribili occhi neri i due erano ormai allo stremo la perdita di sangue l'effetto del tonico che stava svanendo la fecero incespicare tanto che dovette puntellarsi con la spada per non cadere in ginocchio d'altro canto anche la forma guerrero tiranide era allo stremo privato di un braccio e di un occhio inoltre più di una decina di ferite profonde alcune del quale sicuramente avevano intaccato degli organi interni era anche lui allo stremo quella situazione disperata le fece tornare alla mente il passato la sua prima missione le era stato ordinato di dare la caccia a un assassino traditore che si nascondeva in un complesso industriale lei era stata mandata per per stanarlo ma in realtà era stato lui a stanare lei dopo un violento scontro all'arma bianca lei era riuscita a piantare il suo pugnale nel cuore avversario per tutto il combattimento aveva avuto una strana sensazione di déjà vu conosceva il suo avversario dopo la lotta seppur ferita si avvicinò al cadavere e gli tosse il passamontagna quello che vide era il viso di electra quando i suoi superiori andarono a recuperarla gli spiegarono che quella era l'ultima fase dell'addestramento nessun tradimento solo un test per capire chi delle due era la più idonea a maya non importava ormai non le importava più nulla se non delle missioni tutte le sue emozioni erano svanite mentre giaceva sul corpo freddo dell'unica persona che avesse mai amato di nuovo perché questi ricordi le affioravano alla mente proprio ora proprio ora che aveva bisogno di tutta la concentrazione possibile tuttavia era strano nonostante la situazione fosse critica nonostante fosse di fronte alla sua morte sotto forma di zanne e artigli il pensiero di el la tranquillizzava i preti dell'eclesia archia spesso dicevano ai soldati che non dovevano temere la morte poiché l'imperatore sarebbe stato sarebbe sempre stato loro vicino nel momento più buio la sua fedeltà non era in discussione certo ma non aveva mai creduto del tutto a quelle superstizioni ed eccola lì la sua fine il suo obiettivo balzare su di lei urlando il tempo sembrò dilatarsi artigli e fauci bavose erano ormai vicinissime ora una voce risuonò nella sua testa una voce che aveva sentito molte volte l'unica voce che le avesse mai detto ti amo e come la come le disse la voce quello era il momento con entrambe le mani a impugnare la spada meno un fendente dal basso verso l'alto che incontrò la carne del mostro mentre i denti della spada mordevano l'addome della creatura questa cercò di liberarsi colpendo ripetutamente la ragazza che non si mosse di un millimetro anzi diede ancora più gas scorciando infine la creatura dal fianco alla spalla il mostro cade di lato rantolando negli spasmi della morte la spada catena si fece pesante e maya lo lasciò cadere il mondo vorticò e si spense lei cadde a terra vicino al mostro abbattuto stranamente maya non provava non provava più dolore dopo tanti anni le lacrime sgorgarono dai suoi occhi che ormai non vedevano più nulla ma andava bene così finalmente le sue emozioni erano tornate e per la prima volta da quando era solo una bambina si sentì felice il colonnello del 117esimo reggimento onyx se ne stava in piedi tra le macerie di quello che doveva essere un magazzino industriale l'aria era ancora pregna dell'odore di fumo carne bruciata e prometeo l'odore della guerra la battaglia di quella mattina era stata incredibilmente breve dopo aver ricevuto il segnale d'attacco del loro agente infiltrato le prime squadre di fanteria ebbero un duro scontro con le forze nemiche queste non arretrarono di un metro e resero necessario l'uso dell'artiglieria per farsi strada nel complesso poi improvvisamente il morale dei ribelli venne meno l'inquisitrice varisa del lord oxynos affermò con decisione che il comandante nemico doveva essere stato abbattuto il resto della campagna fu cosa semplice senza una guida i cultisti erano solo un branco di sbandati e tutto finì in un paio d'ore il colonnello stefan darks o darkes si trovava a contemplare la devastazione causata dai mortai nel magazzino era rimasto in piedi solo un singolo muro tra un cumulo di rovine spuntava il cadavere semi sepolto di una forma da guerra presumibilmente il leader nemico stefan conosceva bene quegli orrori ne portava ancora il segno sul lato della testa e poté constatare che le mancava un braccio ed era stato quasi tranciato in due da una spada catena ma lui non si era fermato a contemplare il mostro bensì il suo uzzisore lei era lì sdraiata a terra con le braccia spalancate la polvere si era depositata sulle orribili ferite che le deturpavano il corpo seminudo miracolosamente alla ragazza non fu investita dal crollo dell'edificio lei era lì immobile con i suoi lineamenti da bambina a formare un sorriso stanco e gli occhi grigi a fissare il cielo il soldato si tosse il cappello da ufficiale in segno di rispetto mentre sentì dei passi avvicinarsi era il primo ufficiale medico del reggimento che gli si avvicinò e in silenzio si mise a contemplare quello strano quadro di morte sorride esordì allora stefan mentre si accucciò e le chiuse delicatamente gli occhi da quando era salita a bordo della nave non aveva mai cambiato quella sua espressione vuota già convenne il medico dovremmo darle una degna sepoltura nello spazio insieme ai nostri caduti no darò ordine all'administratum planetario di ergere un altare alla sua memoria fece una pausa mentre si rialzava in piedi le generazioni future devono sapere che il loro insulso mondo esiste ancora grazie al sacrificio di questa assassina senza nome troppo giovane per fare una fine del genere il medico annui mentre il colonnello d'arx si voltava per andarsene lui lo incalzò dove andiamo ora stefan si fermò per poi voltarsi siamo la guardia imperiale andiamo dove c'è bisogno di noi e amico mio in questo folle universo c'è solo guerra grazie